MP Play Videopillole sulla legge Salvini A cura di Melting Pot Europa In collaborazione con Lasciateci Entrare Assistenza Sanitaria Nonostante l'approvazione della legge Salvini l'accesso all'assistenza sanitaria in Italia è ancora un diritto garantito Con qualsiasi permesso di soggiorno hai diritto ad essere iscritto al servizio sanitario avere il medico di base e accedere a tutte le cure necessarie Parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani Quindi, se sei disoccupato senza reddito o inoccupato hai diritto all'esenzione E2 sul ticket per visite e cure mediche Anche il permesso di soggiorno per richiesta di asilo garantisce tutto ciò Se non riesci ad ottenere una residenza è sufficiente il domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale Se sei richiedente asilo o hai fatto ricorso contro il diniego del riconoscimento della protezione per essere iscritto al servizio sanitario devi essere in possesso di codice fiscale numerico o alfanumerico e di documentazione che attesti lo stato di richiedente Cedolino, modulo C3, attestato nominativo, permesso di soggiorno o eventuale ricorso cartaceo Se ti trovi senza documenti hai comunque diritto a tutte le prestazioni sanitarie di cui necessiti e l'accesso al medico di base Devi prima richiedere all'azienda sanitaria del tuo luogo di dimora l'attribuzione del codice STP straniero temporaneamente presente Il personale medico non deve informare le forze dell'ordine del fatto che non hai documenti Se sei vittima di discriminazione o non riesci ad accedere al servizio sanitario